Nuova Fetta e Granata si sfidano all'Urbini Casali per il diciannovesimo turno di promozione romane a Gironeffe. Il Granata arriva dalla debacle interna di sette giorni prima con la Sampierana in nuova feta dagli 11 minuti disputati in casa del Gambetto, la prima dell'interruzione del direttore di gara causa infortunio. Piuttosto la gara sarà recuperata mercoledì 30 marzo in serata. Da una parte mancano Sartini, Mamutai e Alpino, dall'altra Boni e Giannini, giustore tra i Granata siede in panchina, tra i pali l'ex Sant'Arcangelo Venghi. Abita la gara Ennio Torricella della sezione di Ravenna, coadiuvato da Simona Cavallari e Cristian Balardini della stessa sezione. La gara mette in vetrina dopo un minuto e mezzo dal calcio d'avvio questo scambio tra Pavani e Torromani. Per il tocco di spalla, cura di Niang, Venghi, blocca senza fanni. Da calcio piazzato all'undicesimo Torromani prova la via del gol, palla lontano dal bersaglio. Il Granata si chiude ottimamente cercando la via del gol dopo la mezz'ora, scambio tra Pellegrini e Silighini con Andreani pronto alla presa. Nuova feta che deve rinunciare alla centrale Amadei, botta al naso per quest'ultimo, a suo posto entra Bindi. Su un finito di prima frazione di gioco le occasioni più limpide per il Nuova feta, Boschetti allarga per Nianghi, centrocampista fa tutto bene ma nei momenti in cui potrebbe ricambiare i favore si fa prendere dalla foga rendendo Vana una chiara occasione da rete. Lo stesso Boschetti dalla distanza chiama la presa a Venghi. Come una settimana prima invece al 45esimo il Granata si fa sorprendere da calcio piazzato. Se al Ghiezzi in contropiede la San Pirano aveva fatto male dopo un tio della bandierina, il Nuova feta prende il telepass in direzione Venghi. Boschetti anticipa il proprio marcatore e mette la quinta ma sul più bello schiaccia troppo la conclusione che si perde a lato. Sotto gli occhi del direttore di gara le squadre vanno all'intervallo sul risultato ad occhiali. Nella ripresa il Granata crea la prima vera palagola al minuto 4. Ambrosini anziché servire il compagno tenta la solo personale, pericolo scampato per Andreani e compagni. A 65esimo i padri di casa tornano a rendersi pericolosi con Ayman Friat. Venghi respinge la conclusione del neoentrato. All'87esimo il Granata in contropiede rischia di colpire torsione perfetta in area di rigore del neoentrato Ronchi con Andreani chiamato alla parata salva risultato. Sul ribaltamento di fronte prima Torromani ed infine Rizzo chiamano a due comode prese l'estremo Venghi. Finisce 0-0 una partita varia di emozioni con i Granata che conquista un punto prezioso per la salvezza e con nuova feta che vede sbandierare i propri colori e ricevere l'applauso meritato del pubblico amico.